Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presono Studio One ed Acustica Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proadiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video sull'aggiornamento di Studio One Pro. Studio One 6 ha introdotto tantissime novità rispetto alla versione 5 e come da tradizione oggi arriviamo alla versione 6.5 con altrettante novità. Come sappiamo infatti le versioni intermedie .5 portano su Studio One quello che viene richiesto maggiormente all'interno del forum di Presonus dagli utenti ed eccoci finalmente a presentare la mia versione definitiva preferita di questa splendida Do. Questa volta però l'aggiornamento porta una grandissima grossissima novità. Un aggiornamento tale che per ogni tipo di altra piattaforma sarebbe stato un major update quindi un aggiornamento a pagamento. Per i possessori di Studio One 6 è completamente gratuito. Infatti oltre al consueto backfixing mensile oggi facciamo un vero e proprio balzo avanti epocale. Un ringraziamento particolare va ai programmatori per l'attenzione che pongono alle richieste degli utenti e dei beta tester che puntualmente appunto vengono soddisfatte. Non vi tengo ulteriormente sulla graticola e vado a mostrarvi quello che Presonus ha messo sulla nostra tavola oggi. Chiesi da beta tester una versione di Studio One per poter mixare ed esportare i miei progetti in Dolby Atmos già nel 2019. Ma rimanemmo in contatto per capire cosa effettivamente sarebbe scaduto nel mercato degli standards. Sì perché già dal 2018 si parlava di diversi standard mix immersivo ed ancora non era chiaro chi avrebbe primeggiato tra i vari competitors. Quindi tra i vari sistemi Dolby che erano in programmazione, il sistema di Apple, Apple Spatial Audio ed altri ancora. Sì perché già dal 2018 Apple Music ha sicuramente fatto da traino aggiudicandosi insieme a Dolby la vittoria finale di questo formato che sarà sempre più diffuso nei prossimi anni a venire. Discuteremo poi sul come e perché missare in Atmos in un video che ho appositamente preparato in cui ci confrontiamo con grandissimi e massimi esperti di questo settore. Come dicevo Apple ha reso quindi i due sistemi Dolby Atmos ed Apple Spatial Audio i nuovi standard forzando la mano e regalando come sappiamo il sistema di codifica surround direttamente all'interno di Logic X destrutturando così di fatto ogni altro progetto di marketing tra i vari competitors e diventando ovviamente lo standard più utilizzato oggi. Questo processo ha sì da un lato sdoganato il mix Atmos rendendolo accessibile a tutti anche in modo casalingo come vedremo ma di fatto ha creato come analizzeremo in un secondo video di questa stessa serie una nuova ondata di bedroom producer che si scontreranno necessariamente con una nuova realtà e nuove problematiche. Per chi è completamente a digiuno di sistemi immersivi vi rimando comunque al prossimo video sul sound immersivo ma faccio un breve accenno giusto per assaggiare il motivo di questo nuovo interesse. Fino ad oggi abbiamo goduto di un ascolto stereo e anche binaurale attraverso appunto le cuffie. Faremo poi un discorso tra stereo e binaurale perché potrebbe sembrare la stessa cosa ma non abbiamo mai affrontato un vero ascolto immersivo dove i suoni si muovono nello spazio intorno a noi se non andando ovviamente al cinema o immergendoci fisicamente all'interno di una sfera virtuale di altoparlanti. Immaginiamo ora questo sistema fruibile in cuffia quindi con le cuffie ma con la possibilità di interagire noi stessi con l'ambiente circostante ossia spostare il nostro punto di ascolto fisicamente quindi spostandoci noi fisicamente nell'ambiente interagendo quindi con i suoni contenuti nel brano o avvicinandoci a quello o a quell'altro strumento. Immaginiamo tutto questo non soltanto nel campo musicale ma in quello molto più remunerativo ovviamente dei videogames. Visto così l'ascolto stereo ovviamente adesso ci appare un po' più old style. I nuovi sistemi di ascolto prevedono questo nuovo formato sto parlando delle nuove cuffie delle nuovissime sound bars per i televisori o i nuovi anche speakers portatili quelli bluetooth e studio one 6.5 diventa la do perfetta per il mix e l'esportazione di questo nuovo formato di ascolto immersivo. Come quando dobbiamo concentrarci in un mix stereo che sia per esempio funzionale in cuffia in automobile o in discoteca o anche al supermercato dovremo applicare lo stesso principio al prossimo sistema di ascolto immersivo far sì quindi che il nostro mix Atmos sia compatibile con tutti i sistemi Atmos in circolazione che lo riproducono. Noi come fonici ci troviamo ora di fronte ad una nuova sfida ad un nuovo universo inesplorato di tecniche e soluzioni di mix mai viste in precedenza. Potremo creare nuovi modi di missare i brani ad esempio e gli elementi in esso contenuti staccandoci da decenni di mix stereo e superando alcune barriere tipiche di questo formato. Verranno creati nuovi plugin soprattutto di ambiente quindi di riverbero o plugin di distorsione surround di emulazione mai visti compressori riaccendendo anche i vecchi album che abbiamo fatto dando loro nuovo lustro ed essere remixati in questo nuovo formato ed è quello che farò poi nei prossimi video con alcuni artisti. Siamo pronti? Andiamo a vedere insieme cosa troviamo di nuovo all'interno di Studio One 6.5. Ecco infatti la top 10 assoluta delle nuove funzioni ma ce ne saranno altre che esploreremo sempre all'interno di questo video. Ecco qui la top 10 assoluta. Al primo posto troviamo il flusso di lavoro integrato per la produzione dell'audio immersivo ed è quello cui ho già accennato. Al secondo posto integrazione Dolby Atmos con 9.1.6 canali a 96 kHz. 3. Supporto per il monitoring binaurale in cuffia del Dolby Atmos. 4. Set aggiornato di plug-in compatibili con l'audio spaziale. 5. In riferimento a quello che ho detto nel punto 4 un nuovissimo riverbero a convoluzione Open Air 2 con HDR a 7.1.4. Nuovo plug-in di surround multi-tap delay. miglioramenti alla tablatura e agli spartiti. Supporto completo di ARA quindi della tecnologia ARA che abbiamo visto in Melodyne. Anche nella project page per potersi poi integrare con altri plug-in di questo tipo. L'aggiornamento di Studio One remote per il mixaggio dell'audio spaziale direttamente sul tablet e questo ci svincola dai joystick classici che abbiamo visto finora per questo tipo di mixing. Infine, una novità incredibile, il supporto di un nuovissimo formato di esportazione che si chiamerà Do Project e che sarà presto compatibile con tutte le Do. Lo vedremo poi infine al video. Ora Studio One è la Do definitiva per ogni uso professionale ma c'è ancora una voce che viene da lontano. Un eco che ad ogni aggiornamento risuona nell'aria o nei commenti da decenni. Ed è questo qui. Un giorno farete una versione per Linux. Sorpresa delle sorprese, Studio One 6.5 sarà in beta pubblica per gli utenti Ubuntu Linux. Ma entriamo nel core del nostro aggiornamento ed iniziamo con il recording e mixing in Special Audio e Dolby Atmos. Come abbiamo visto ho utilizzato il termine immersivo per descrivere l'esperienza tridimensionale di ascolto perché Special Audio e Dolby Atmos sono effettivamente due sistemi immersivi simili ma diversi. Non sono quindi la stessa cosa come molti pensano. Il Dolby Atmos fa riferimento ad un sistema immersivo di ascolto utilizzabile in cuffia, al cinema o con apparecchiature portatili che si adattano a questo standard. Mentre Special Audio di Apple è anch'esso un sistema immersivo adattabile ma che interagisce con noi attraverso l'intercettazione spaziale dei nostri movimenti. Ascoltando ad esempio un film, la musica o giocando ad un videogame in Special Audio possiamo muoverci fisicamente all'interno del contenuto sia audio sia video come se fossimo realmente immersi in quell'ascolto. Questo è possibile grazie ad un head tracking contenuto nelle cuffie Apple e Beats ma sono sicuro lo sarà presto sicuramente anche in altre cuffie di terze parti. Può capitare quindi di vedere video tutorial dove il termine Special Audio venga utilizzato un po' per tutto e come accade purtroppo in Logic X esportare in Special Audio non equivale a farlo veramente nel formato proprietario di Apple. Per catturare il suono quindi il sound immersivo è necessario registrare in Multichannel. Era quindi già possibile caricare dei file Multichannel all'interno della Do come quelli provenienti ad esempio dai microfoni olofonici o ambisonici come ad esempio il Rode NTSF1 o il Sennaiz Rambeo. Non l'ho mai trattato come argomento perché ancora non era possibile esportare in Surround. Da Studio One 6.5 sono supportati ingressi mono fino ad un massimo di 16 dedicati appunto al formato 9.1.6 inclusi ovviamente anche i più famosi quindi il 4.0 5.1 7.1 Dolby Standard eccetera eccetera oltre ovviamente ai microfoni che ho appena citato. Aggiungendo una traccia infatti possiamo adesso scegliere tra i vari formati in ingresso quindi possiamo aggiungere non soltanto mono e stereo ma anche tutti i formati intermedi fino al 9.1.6. Questo ovviamente va poi configurato all'interno della IAU Setup che vedremo dopo. E aprendo una traccia Surround vedremo già tantissime novità. Infatti vediamo già subito un pan completamente diverso cliccando all'interno entriamo nel Surround Panner mentre ad esempio se prendessimo una song prendiamo quella di Andrea Bocelli Hotello missata in Surround al PPG Studios possiamo già vedere la traccia multi channel eccola qui che contiene all'interno i canali destinati al sistema Atmos che se andiamo in play la possiamo vedere ed ecco che si accendono tutti i canali dell'Atmos. Ovviamente nell'ascolto binaurale quindi nell'ascolto in cuffia viene spento il canale dello frequency quello dei sub ma possiamo gestire ed ascoltare tutti gli altri canali. Questi sono tutti i limiti imposti dallo standard Dolby quindi non è un problema di Studio One. Ovviamente nell'ascolto speaker 7.1.4 quello reale possiamo chiaramente sentirli tutti. In questo modo potremo applicare i plug in di trattamento del Surround direttamente nel canale multitraccia magari per fare un EQ o per fare delle piccole modifiche. Infatti anche i plug in di Studio One 6.5 sono stati aggiornati per poter lavorare e ovviamente interagire con gli elementi del Dolby Surround dell'Atmos e dello Special Audio. Cliccando sulla IOSetup presente all'interno del mixer accediamo alla finestra di configurazione degli ingressi e delle uscite della scheda audio. Già qui dentro possiamo scegliere di assegnare dei canali direttamente alle uscite e configurarle come meglio crediamo oppure scegliere un setting di uscite ad esempio quelle ADAT ed inviarle direttamente ad una scheda audio o al convertitore che poi sarà collegato al nostro impianto Surround. Cliccando qui a sinistra scegliamo ad esempio 7.1.2 e automaticamente tutti gli ingressi e le uscite vengono assegnate alle porte ADAT che ho selezionato. Quindi in questo caso tutte le uscite ADAT da 1 a 10 sono automaticamente assegnate a questo sistema. Quando noi andremo a scegliere l'uscita ADAT 1.2 o potremmo anche chiamarla Atmos Out la ritroveremo all'interno del nostro mixer e potremo così uscire direttamente in questo formato. Come vediamo ADAT fino a 11 e questo andrà direttamente nel convertitore e avremo già le uscite separate per il Dolby Atmos. Quindi anche le varie configurazioni Surround sono estremamente semplici sia in ingresso sia in uscita. Riguardo l'uscita binaurale è consigliabile assegnare una terza uscita come se fosse un doppio listen bus. Infatti in questo caso ho sia il listen bus standard sia un headphone out che è configurabile qui dalla finestra. Enable additional headphone out. Con questo possiamo avere un ascolto binaurale staccato da quello stereo. Quindi avere un listen bus con un ascolto stereo e un ascolto binaurale direttamente sull'headphone out. Chiaramente tutto questo richiede una scheda audio con tantissime uscite. Ed infatti ho recentemente acquistato, lo vedremo in un altro video, il nuovissimo convertitore della Ferrofish chiamato A32 Pro. Esattamente per questo tipo di interventi e di lavori. Il panning degli oggetti nel panorama Surround. Qui il discorso inizia a farsi un po' più complesso per molti alle prime armi con questo sistema. Perché si entra nell'audio immersivo anche con le sue regole che non sono ovviamente presenti nel sistema, nel caro vecchio sistema stereo. Quando siamo in stereo utilizziamo un controllo di pan molto semplice. Destra, sinistra, l'abbiamo visto tantissime volte all'interno del mixer. E ho dedicato un intero video alla pan low, quindi al sistema di gestione del pan da parte dell'head. Vi consiglio di cercarlo all'interno del canale. Per lavorare in Surround ovviamente anche il controllo di pan è stato adeguato a questo sistema. E vista la complessità della gestione è stato inserito anche un sistema di controllo di altezza dei suoni che troviamo appunto nella parte sottostante. Dipende ovviamente tutto dal sistema sorgente che abbiamo a disposizione, quindi dai suoni e dal sistema di ascolto che abbiamo a disposizione. Perché chiaramente anche se in bene orale viene traslato abbastanza bene, non è la stessa cosa che ascoltarlo in un ambiente Atmos dove appunto ci sono degli speaker in alto. E quindi possiamo sfruttare tutti e 16 i canali di questo sistema. Come dicevo funziona comunque molto bene anche su sistemi Surround più piccoli come quello che uso spesso che è il classico 5.1. Se spostiamo il pan sul mixer tutte le sorgenti contenute nel canale si muoveranno simultaneamente, quindi se abbiamo una traccia Surround tutto ciò che all'interno si muoverà nel panorama Surround. Cliccando su Pan come abbiamo visto si apre appunto la finestra di controllo. In questo caso siamo sul panner quello 7.1.2 ed abbiamo non soltanto l'ascolto del segnale centrale Left e Right ma oltre abbiamo LS, Left Surround, Right Surround, Rear Right Surround e Rear Left Surround. Oltre appunto al Left Top Middle e Right Top Middle. Quindi gli speaker che ovviamente vediamo qui sotto raffigurati in alto. I controlli di Size e Spread che vediamo qui sotto ci permettono di controllare con precisione la distribuzione del segnale, quindi di quello che noi stiamo spostando nel pan anche in riferimento agli altri canali. Come vediamo possiamo far sì che un po' del segnale vada in tutti gli speakers. Quindi se abbiamo un suono che deve essere presente in tutti gli speakers utilizzeremo il Size fino a farlo diventare totale e lo Spread ci permette di spostare, quindi allargare il panorama di quello che stiamo ascoltando. Sono sistemi molto complessi ma anche molto creativi, soprattutto quando lavoriamo con dei suoni ritmici. Io l'ho trovato estremamente interessante. Il controllo Elevation ci permette di spostare l'altezza dei suoni verso l'alto. Quindi ad esempio se avessimo dei suoni da voler spostare molto più sulla parte alta, ad esempio stiamo missando degli effetti particolari di spostamento di suoni, possiamo utilizzare l'Elevation e tutti questi parametri sono ovviamente programmabili, quindi estremamente dinamico rispetto ad un mix stereo. Sotto troviamo la possibilità di scegliere o diminuire o alzare il suono che va direttamente al sub, quindi calibrare il sub di questo canale, quindi le frequenze sub di questo canale nell'uscita sub e ovviamente anche il volume del centrale. Spesso il canale centrale nel cinema viene disabilitato, quindi con il pulsante possiamo disabilitarlo o tenendo premuto alt e metterlo in solo rispetto agli altri. In questo modo viene spesso lasciato il canale centrale al dialogo, ad esempio del film, quindi evitando che il dialogo vada nelle altre fonti surround lasciando tutto lo spazio alla musica rispetto al canale centrale. Io suggerisco comunque anche in modalità spatial audio di spegnerlo perché potrebbe creare dei problemi quando si trasla in stereo, ma questo è un altro discorso perché in stereo come sappiamo abbiamo un got center, quindi gestirlo senza il canale centrale è molto più semplice, ma nessuno ci vieta appunto di mettere la voce solista anche nel segnale centrale. Dovremmo poi comunque fare degli ascolti comparati per capire se effettivamente funzioni tutto nella maniera corretta. Entriamo sempre di più nell'audio immersivo parlando di bed e object. Nel Mix Atmos esistono due tipi di formati, li vediamo qui anche nel mixer e nell'uscita out di Studio One, Bed Format e l'object che sono gli standard contenuti all'interno del sistema Atmos. Per trasformare quindi una traccia mono o stereo in queste due configurazioni è necessario che la traccia sia diretta al main out, quindi senza passare per i bus e che finisca direttamente qui nel renderer della Dolby. Quindi cliccando sul menu a tendina che vediamo vicino al panner possiamo scegliere se trasformarlo in Special Object Panner o in Surround Panner, quindi come vediamo possiamo configurare la traccia in questo modo. Cambia ovviamente la visuale del panning e nel caso fosse appunto un oggetto possiamo ora muoverlo e far sì che interagisca poi all'interno dell'ambiente e sia collegato al sistema Special Audio di Apple, quindi interagisca con il head tracking contenuto nelle cuffie. Se il canale non è né mono né stereo ovviamente il Surround Panner rimane fisso e non può essere trasformato in Object Panner. Importantissimo quando si converte un canale mono o stereo, quindi veniamo da un mix precedente e vogliamo fare un mix Atmos Studio One conserva la posizione attuale del pan, un'impresa non facile visti i concetti fondamentalmente diversi del panning tra Surround e Object. In questo caso possiamo quindi convertire un mix esistente da stereo a Surround e tutte le posizioni del pan precedente verranno conservate, fornendo un punto di partenza per il mix Surround più che esatto. Andiamo a vedere adesso il supporto per i plugin Surround di terze parti. Possiamo sicuramente utilizzare gli effetti nativi di Studio One per il mix Surround, ma è possibile caricare altri effetti di terze parti che interessano ad esempio il pan del Surround. Andando qui in basso nella tendina possiamo optare per l'opzione Other e in questo caso ci viene aperta la possibilità di utilizzare dei panner creati da plugin di terze parti e che lavorano appunto in Surround. Ad esempio il DRVR Music, molto bello tra l'altro, lo Zone Imager o il PSP Stereo Controller 2. In questo caso il plugin non essendo Surround viene evidenziato qui in alto la selezione dell'unica funzionalità stereo del plugin. Quindi attenzione, verremo sempre avvertiti se un plugin è compatibile o meno con questo nuovo formato. Lo stesso possiamo fare per i panning contenuti all'interno della sezione Send dei vari canali. Quindi anche qui possiamo scegliere gli altri plugin ed avere anche un plugin Surround in Send diverso da quello che sto utilizzando in questo momento. I plugin, ovviamente nuovi di Studio One, possiedono un Channel Setting Mapping, quindi la possibilità di lavorare soltanto su alcune delle uscite del segnale che noi stiamo utilizzando. Ad esempio posso aprire il ProEQ e farlo intervenire non su tutto il Surround, bensì attraverso questa nuova funzione, questa chiave inglese che vediamo qui al lato in alto nel plugin, scegliere se bypassare alcune delle uscite del Surround e quindi far sì che l'EQ funzioni esclusivamente su Left e Right, quindi corregga soltanto quel tipo di canali o in alternativa farlo lavorare ad esempio soltanto sulle frequenze basse. Le configurazioni e l'utilizzo dei plugin è molto ampio, questa funzione però esiste soltanto adesso attualmente all'interno dei plugin di Studio One, quindi finché i plugin di terza parte non si aggiornano per questa funzione, possiamo utilizzarli con i plugin di Studio One. Da qui infatti possiamo scegliere su quale canale e canali rimanere agganciati. Se utilizziamo un plugin stereo su questi canali rimarrà invece agganciato, come abbiamo visto, al segnale stereo, quindi Left e Right, sappiamolo, quindi potremo utilizzarli ma l'effetto sarà esclusivo del segnale Left e Right. Come abbiamo visto, il messaggio per Dolby Atmos aggiunge dei requisiti molto specifici ed un ulteriore livello di complessità del workflow nella produzione appunto dell'audio immersivo. Altre Do, non facciamo nomi, spesso richiedono l'acquisto di plugin aggiuntivi e la necessità di routing complessi, oltre alla sincronizzazione audio tra le applicazioni per il Dolby Atmos. Studio One 6.5 offre una soluzione perfettamente integrata basata sulla più recente tecnologia Dolby ed è che è stata ovviamente certificata da Dolby stessa per garantire che ogni mix Atmos creato con Studio One soddisfi tutti i requisiti specifici di questo tipo di formato. Per abilitare Dolby Atmos in Studio One è sufficiente selezionarlo dalla finestra Song Setup quindi se abbiamo una song stereo andiamo qui e la trasformiamo in Special Audio direttamente oppure andiamo su Song Setup e abbiamo l'opzione Special Audio con le varie configurazioni da assegnare. In alternativa possiamo utilizzare la pagina iniziale di Studio One quindi creare una nuova song e dal template scegliere Mix in Surround verremo ovviamente catapultati in una nuova song già pronta per il Mix Surround dovremo soltanto aggiungere i canali ed iniziare a lavorare. Abbiamo sia l'opzione qui Mix in Surround Dolby Atmos, Surround Standard o seguire anche un tutorial che ci aiuta a capire un po' i principi di questo formato. Ricapitolando, Studio One 6.5 supporta un Dolby Atmos con un massimo di 9.1.6 canali di uscita a frequenza di campionamento fino a 96 kHz. Il cuore della produzione Dolby Atmos è l'audio Dolby Atmos Renderer e lo troviamo una volta scelta la song appunto in Atmos qui al lato dopo il Main Out. In questo momento Studio One è l'unica Do che consente di monitorare l'uscita renderer su altoparlanti e cuffie simultaneamente, quindi contemporaneamente. In questo modo è possibile ascoltare sempre il suono del nostro mix su qualsiasi dispositivo o altoparlanti o cuffie in modo simultaneo e indipendente. Il renderer elabora quindi tutti i canali audio sia bed sia object in base alla configurazione del mixer e fornisce opzioni essenziali per l'esportazione e il monitoraggio del Dolby Atmos. Infatti poi quando andremo ad esportare la song avremo anche la possibilità di scegliere più formati di esportazione anche contemporaneamente. Qui appunto ad esempio possiamo configurare il formato bed, quindi se stessimo lavorando ad esempio in 5.1 e la configurazione degli speakers in uscita, quindi ad esempio 5.1 e avere appunto una compatibilità con questo sistema. Oppure avere la possibilità di missare in 7.1, 1.2 e poi ascoltare il risultato in 5.1. La traslazione binaural uscirà sempre dall'uscita headphone ed abbiamo quindi un doppio riferimento d'ascolto sempre e contemporaneamente. Nelle opzioni dell'Atmos renderer possiamo appunto come abbiamo visto abilitare l'uscita di ascolto addizionale appunto delle cuffie, il loudness metering, quindi avere questo loudness metering qui al lato, ottimo, per controllare appunto i livelli di loudness in Loo, Loofs e più 18 scale che sono appunto utili per questo genere di riferimenti e sotto andare a fare un manual trimming sulle uscite su round per poter appunto avere una calibrazione più precisa. Riguardo il down mixing abbiamo lo standard low row, poi lo vedremo nel prossimo video appunto sul discorso dell'Atmos, il Dolby Prologic 2, il direct render with room balance e il direct render, oltre al down mix che possiamo fare appunto in Prologic 2, Prologic 2 with phase 90. Gli stessi controlli ovviamente li rivediamo qui riassunti all'interno del channel strip del Dolby renderer. Con Studio One 6.5 gli utenti come me che sono spesso in viaggio e non hanno accesso ad una configurazione di diffusori multicanale possono comunque creare un mixer audio spaziale in Dolby Atmos utilizzando le cuffie. È chiaro che in questo caso un paio di cuffie iper professionali diventa fondamentale proprio perché è necessario avere una definizione su ogni aspetto dell'immagine appunto binaurale che possono fornire le cuffie e delle frequenze oltre ovviamente all'assenza di distorsione. Come sapete utilizzo Audis già da qualche anno e queste a mio avviso sono le cuffie perfette per questo genere di applicazioni. Comunque nell'uscita binaurale abbiamo tutti i metadata che vengono forniti dal protocollo Atmos ben strutturati e realizzati. Come vi dicevo non confondiamo l'ascolto binaurale con l'ascolto stereo. Questo sistema c'è una correlazione proprio tra suoni e spazializzazione emulata e non fa riferimento al suono stereo classico. Entriamo nella finestra di esportazione del mix e quindi del file master che si chiamerà in questo caso è sempre un file wave ma si chiamerà ADM BWF. Questo è il formato del file audio che viene esportato da Studio One e da tutti i sistemi Dolby Atmos. Ovviamente possiamo in Studio One esportare questo file già direttamente per tutti i formati contemporaneamente. Questo è comodo perché se dobbiamo approcciare a più produzioni magari la song è stata fatta per il video, per l'ascolto in streaming, per l'ascolto su DVD, Blu-ray eccetera eccetera. Abbiamo già tutti i formati pronti e esportabili subito contemporaneamente. Riguardo la traduzione di questi termini quindi dei nuovi menu in italiano datemi ancora un po' di tempo giusto per adattarli al meglio e inviarli a Presonus per l'aggiornamento. Siamo giunti ad una delle più importanti novità all'interno di Studio One 6.5. Mi sto riferendo appunto ai plug-in nativi, quindi i plug-in di Studio One. L'intera serie di Native FX è stata aggiornata per supportare l'elaborazione dei segnali multicanale, l'abbiamo già visto prima, e quindi tutti i segnali da mono a stereo fino a 9.1.6 o l'elaborazione di qualsiasi singolo canale o coppie di canali per ogni stanza di plug-in. Prendiamo ad esempio il ProQ3 che in questo momento sta lavorando appunto in 7.1.2. Qui dalla finestra possiamo bypassare alcuni degli speakers di questo formato e far sì che il plug-in lavori esclusivamente sui speakers, quindi su alcune parti del suono che interessa appunto questo canale. Ad esempio possiamo applicare un low-cut filter soltanto nei canali left-right, lasciando tutti gli altri liberi da questo intervento. Chiaramente attenzione ad utilizzare le Q in questo modo perché potremmo creare altri problemi di fase, però per piccole correzioni è estremamente utile e ovviamente diventerà creativo nelle prossime generazioni di mix. Lo stesso possiamo fare per il compressore che possiede lo stesso principio, quindi potremmo ad esempio comprimere o mandare in sidechain la compressione di questo canale soltanto da altri canali che vengono poi esclusi da altri tipi di interventi, ad esempio comprimere soltanto il centro, quindi evitare di comprimere il resto dei segnali contenuti nella matrice appunto surround. Alcuni altri plug-in non sono stati soltanto aggiornati, prendiamo ad esempio dalla nostra cartella Presonus, prendiamo ad esempio il surround delay. In questo caso il delay può lavorare direttamente nella matrice surround e quindi rimbalzare il suono nelle diverse posizioni e l'ho trovato estremamente creativo su alcune percussioni e dà effettivamente una spazialità enorme ai delay, bellissimo sulle chitarre, splendido su alcuni suoni particolari, rendendo ancora più immersiva l'esperienza del delay. Lo stesso controllo, quindi lo stesso sistema viene aggiunto anche al phaser e al flanger oltre che al chorus. Infatti possiamo applicare ad esempio il flanger in maniera circolare, quindi nello spatial mode, oppure soltanto left e right o front rear, quindi soltanto davanti e dietro. In questo modo avremo un flanger molto particolare. Lo stesso accade appunto come dicevo per il chorus e il phaser. Ma la novità più interessante a mio avviso di questi plug-in è sicuramente il riverbero, quindi l'ambiente che ora Open Air 2 supporta in maniera pazzesca, soprattutto per il formato surround, avendo appunto all'interno degli ISP, degli IR, quindi degli impulse response già pronti per il mix surround. In questo momento sto utilizzando appunto Romantic Church, ma abbiamo a disposizione una quantità enorme. Gli Origin, che sono appunto quelli non elaborati, le rooms e gli spaces. Sono veramente molto molto belli. Li abbiamo già utilizzati in un altro video che uscirà insieme a Stefano Maccarelli questa volta. E vedremo appunto la qualità e il gusto, la bellezza di questi ambienti, soprattutto appunto dedicati al sistema di mix surround. Passiamo ora allo score editor. Finalmente gli accordi presenti nella chord track possono essere rappresentati all'interno della partitura, cliccando appunto su Show Chords. In questo modo abbiamo già gli accordi scritti sulla partitura e per me questa era una cosa mancante, fondamentale e la trovo geniale perché ovviamente insieme agli accordi possiamo avere la tablatura e anche il testo direttamente del lyrics track nella partitura. Una cosa pazzesca, funzionale, veramente bella. Proprio la partitura per chitarra subisce un importante cambiamento. Possiamo ad esempio cambiare l'intonazione delle corde o passare appunto ad accordature aperte molto più complesse, ad esempio utilizzando la sette corde o la tablatura scritta per la sette corde. E possiamo qui cambiare ad esempio appunto la intonazione delle corde direttamente. Possiamo aggiungere il circle to tab e lo show stems in tab. Questo è utilissimo per vedere anche la funzione ritmica all'interno delle, non solo delle tablature, ma anche e soprattutto delle partiture per batteria. Estremamente utile. L'editor secondo me adesso è veramente, veramente completo. Sempre ritornando alla partitura abbiamo ora i simboli del bending che prima non erano presenti e ovviamente anche quelli della barra del vibrato. Quindi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per noi chitarristi elettrici. Quindi vibrato, white vibrato, il whammy bar, tutto quello che fa parte appunto delle varianti del bending. Abbiamo diversi bending come vediamo, è veramente utile. Nella finestra invece di drum map abbiamo un pulsante nuovo che si chiama appunto reset. In questo modo possiamo reimpostare la mappatura appunto della partitura per batteria. A volte potrebbe risultare spostata in alcune situazioni. Questo per poter avvicinare esattamente l'intonazione del sample alla partitura, quindi la correlativa parte esatta sulla partitura per batteria. All'interno della project page possiamo adesso utilizzare il sistema ARA. Come vediamo ho aperto Melodyne su questa traccia appunto qui. Ma possiamo utilizzare lo stesso sistema per caricare ad esempio alcuni plugin compatibili ARA di Isotope RX ad esempio e quindi lavorare direttamente con l'editor di Isotope RX all'interno della project page. Questa è una novità enorme e tornerà estremamente utile a tantissimi che restaurano l'audio. L'altra grandissima novità che andiamo adesso a vedere è l'esportazione di un nuovissimo formato di salvataggio della Do. Arriviamo in fondo con l'ultimo aggiornamento, l'ultima novità che fa riferimento all'esportazione del standard della Do, quindi della song della Do. In questo Studio One 6.5 ha fatto appunto un nuovo sistema standard, quindi è il primo ad utilizzarlo, che si chiamerà Do Project. Il Do Project è molto più avanti rispetto ai classici esportazione OMF o AAF e speriamo verrà implementato anche in tutte le altre Do. In questo momento specifico Studio One la utilizza insieme a Bitwig, quindi possiamo passare i progetti da Bitwig a Studio One e viceversa in maniera estremamente rapida. Il formato Do Project contiene le tracce audio, le tracce instruments, le cartelle, l'automazione, i canali del mixer, gli effetti insert e send nei vari canali, le impostazioni dei plugin VST2, VST3 e audio unit ed i marcatori, praticamente tutto quello che ci serve per mantenere lo stesso workflow e spostarci da una Do all'altra. Ovviamente anche i file audio e i file MIDI. Aspettiamo quindi che venga adottato da tutti, ma già per questo motivo siamo super felici. Ultimo, ma non ultimo, le novità nascoste le troviamo infine tra gli shortcuts. Abbiamo adesso la possibilità di importare quindi la mappatura dei tasti da Ableton Live, FL Studio e possiamo utilizzare il sistema Low Latency Adjustment per il Surround e quindi anche in Dolby Atmos. Ovviamente siamo limitati in Dolby Atmos con il Dropout. Funziona soltanto esclusivamente con 512 samples. Questo è un limite proprio del Dolby imposto e non possiamo chiaramente cambiarlo. Riguardo la versione Linux, questa sezione è riservata agli utenti avanzati di Linux. Quindi se utilizzate Linux o non avete ancora configurato con successo un sistema Linux, vi consiglio appunto di utilizzare un sistema che includa un server audio jack pienamente funzionante. Verranno poi forniti magari in un altro video alcune indicazioni su come utilizzarlo in quel modo. È richiesto Ubuntu 23.04 e un processore AMD o Intel x86 e sono supportate tutte le versioni derivate di Ubuntu Studio Wayland. Siamo giunti al termine, direi che ora possiamo dire di avere una versione di Studio One Professional più completa, se non per dire totale. È sempre più ottimizzata nel workflow rispetto a qualsiasi altra DO. L'integrazione dello score è perfetta, il video edit ed ora il Surround Mix la porta definitivamente in vetta alle DO del prossimo futuro. È un aggiornamento gratuito per gli utenti di Studio One 6, mentre per tutti gli altri consiglio vivamente un update dal sito Presonus. Per il momento è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella, questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao a presto!